Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale dal vostro TheBatman, il cavaliere oscuro di YouTube per questo nuovo gameplay di Immortal Phoenix Rising. Eccoci qui tornati dalla cripta di Ares. Ovviamente purtroppo non siamo riusciti a recuperare l'essenza di Ares per farlo tornare umano, anche perché dopo aver sconfitto il mostro della cripta, perché bastava soltanto saltare su quelle casse volanti, posizionarle, lanciarle, liberare dalle catene il mostro, sconfiggere il mostro e prendere l'essenza. Però purtroppo prima di prendere l'essenza, un ladro ci ha rubato l'essenza di Ares e praticamente siamo tornati a mani vuoti. Adesso dobbiamo tornare da Ares per parlare con lui. Non è il tuo turno! Non dispiacerti, cerca di migliorare. Ho setacciato la cripta e qualcuno è già entrato e ha rubato la tua essenza. Cacote! Il ladro ormai potrebbe essere ovunque! Il fallimento era certo! Abbiamo finito! Buonanotte! Cosa dirò ad Afrodite? Beh, dille che sto per essere investito da un carro! Non riesci ad attraversare la strada, eh? Ok, va bene. Aspetta, è un tentativo disperato, ma potremmo rintracciare il ladro con le amazzoni. Sai, sono le mie figlie! Loro hanno degli strani strumenti. Ma potrebbe funzionare? Non emozionarti troppo. Al momento non mi rivolgono la parola. È una lunga storia, ma ho un dispositivo di tracciamento delle amazzoni. Lo avevo ricevuto come offerta e nella mia fortezza dalla quale Tifone mi ha cacciato. Per gli dèi è inutile. Come dice mio padre, ho il cervello di una gallina. A meno che... A meno che... Il suono della mia Salpings può aprire l'ingresso. Non volevo che finisse tra i tentacoli di Tifone, quindi l'ho nascosta. La tua Salpings? Ah, dovrò pensare a qualcosa da suonare. Chi credi di essere Afrodite? Non puoi suonare a caso uno strumento di guerra. Inoltre è solo la metà di quello che serve. Dovrai aprire la porta con la melodia di tributo di Tifone. Oh, davvero? Qual è la melodia? Tifone non è un normale narcisista. Ha costretto Pan a dedicargli una canzone. E la mia porta ormai reagisce solo a quella melodia. Pan ha lavorato sulla musica in una cripta, da qualche parte. È la tua migliore possibilità di trovare la melodia. Una volta preso tutto, se riesci a sopravvivere, suonala davanti all'ingresso della fortezza per aprirlo. Ehi! Dov'è la mia melodia di tributo? Credo siano i rotti che fanno le persone dopo aver bevuto troppo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti